Buongiorno ragazzi, allora come da richieste di Alessandro, Marco con la K e molti altri miei seguaci, oggi faccio il video su come si riconosce la melanzanna quando è matura, quando è proprio quel giusto punto di maturazione, quindi non è né troppo come si dice verde, né troppo smaturata, andiamo subito al tutorial. Come da molte vostre richieste siamo qui di fronte ad una pianta melanzana, oggi vi spiego come si riconosce la melanzana quando è proprio il momento di andarla a raccogliere, quel momento adatto, quel momento in cui il frutto è proprio cresciuto al suo massimo ma non ha ancora iniziato ad alimentare i semi all'interno, quei semi che chiaramente noi non vogliamo e al contempo anche poi la pasta all'interno diventa un po' molliccia. Allora la melanzana inizierà con il suo bel fiore a fare la melanzanina, dalla melanzanina la melanzana crescerà sempre di più, arrivata appunto di raccolta noi andremo a raccogliere, qui ce n'era una che ho raccolto qua sotto un'altra che ho raccolto. Ascoltatemi bene non è semplice ma vi spiego proprio in parole semplici, le melanzane poi di colori ci sono molte e di molti colori diversi, questa è quella striata, ne abbiamo qua che sono quelle nere, ci sono bianche e rossicce e così via. Non è come il pomodoro che una volta giunto a maturazione cambia il colore, è in modo evidente, questo lo cambia in modo meno evidente. Allora quando la melanzana dal fiore inizia l'allegaggione ha già la sua conformazione del frutto così come noi lo vediamo appeso, quindi una colorazione della buccia che è molto lucida. Questa molta lucidità, statemi ben attenti, continuerà ad esserlo quindi così lucida fino a che la pianta proprio alimenterà la melanzana nella sua fase di crescita. Una volta che la fase di crescita è arrivata alla massima dimensione, quindi inizierà l'alimentazione dei semi questa buccia inizierà ad opacizzare, quindi appena noi vediamo la buccia della melanzana che opacizza è il momento di raccoglierla, perché dopo non fa altro che alimentare i semi e la polpa diventare molliccia, ok? Quindi a buccia che inizia a opacizzare, forbici, guanti perché queste pungono e raccogliamo i nostri frutti. Vedete quanto è semplice, i trucchetti del contadino come li chiamo io. Mentre i nostri amici impollinano la nostra melanzana vi faccio vedere un attimo la differenza, vedete com'è bella lucente questa che ho appena raccolto, guardate era appesa qua. Vi la metto vicino e vi faccio vedere la differenza di lucentezza, vedete? Ha iniziato ad opacizzare, quindi questa ha iniziato a diventare della maturazione corretta per essere raccolta. Spero di avervi anche in questo modo aiutato, ci vediamo alla prossima ragazzi, gli ultimi 6 secondi del video sono sempre dedicate agli altri interessanti link, vi metterò la potatura della melanzana, melanzane meravigliose e qualche altra cosetta, vi saluto un abbraccio da Pier Giorgio.